Le terribili profezie di Nostradamus, e Nostra Signora di Anguera, riguardo lo spietato coronavirus. Gli ultimi dati sul coronavirus, iniziano a preoccupare anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui i contagi si attesterebbero sui 10.000 casi sparsi nel mondo, e le vittime sono salite a 213. Il virus è stato identificato nel dicembre 2019, in un mercato del pesce avuan, in un mese circa si è diffuso in almeno 20 paesi. Amanti delle più svariate teorie del complotto hanno tirato in ballo Nostradamus, che a detta loro, avrebbe predetto la grande pandemia secoli fa. La grande pandemia, nella città marittima non cesserà, prima che morte sarà vendicata, del giusto sangue per preso, condannato innocente, della grande dama per simulato oltraggio. La profezia di Nostra Signora di Anguera, sembrerebbe ancora più attendibile e recita così. Cari figli, la scienza inciamperà, e dall'errore commesso dagli uomini, nascerà un gigante che ucciderà molti innocenti. La ricerca del progresso scientifico, porterà gli uomini alla folia. Ritornate in Dio. Figli ribelli, lasciate perdere il malevolo, siete ancora in tempo. Coincidenze o no, queste profezie sembrano parlare dell'attuale secolo. Speriamo restino soltanto coincidenze. Il video è arrivato a conclusione. Fammi sapere il tuo parere in un commento. Iscriviti al canale, grazie del tuo supporto. Grazie a tutti.